Siamo davanti al Duca degli Abruzzi con due studenti, Arianna Carniel e Adam El-Farighi. Entrambi, con coetanei, compagni di altri indirizzi, hanno portato avanti un progetto sulla sicurezza in bici. Le prime regole da seguire? Tenere sempre il casco. E mettere la pettorina quando è notte. I pericoli maggiori? Le auto. E anche le piste ciclabili non continue. Voi usate la bici per venire a scuola? Ogni giorno. No, perché abito lontana. Altrimenti, se abitassi vicina... La userei.